Ciao a tutti ragazzi, sono io, Lingdale22 per questa nuova parte del Let's Play di Banjo 2 Ok, siamo arrivati nel nuovo mondo e il Filepix nella parte della lava due anni finalmente sono uscita arrivare al mondo della lava con una scorta di acqua bene contento per noi non no 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 3, 9, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Ehi nonna, guardi, fermi il volcano, ti brucerò, boh, qui ho una piccometra Ciao Ok, sono qua Occello Ok, sono qua Ok, sono quasi sferati Ok, qua ci possiamo separare E adesso qua contiene da solo Solo per un attimo perché Poi Guarda giù E recuperare una mossa Cosa è successo? Vabbè Ho sbagliato Ah no, a parte che aspetta da te Se sei già un jar Ce li fa recuperare lui Ok Questo È un attacchio Comunque possiamo portare dentro Lo zaino E ci protegge dai liquidi E dal lava e cose così Ecco Ecco va a far bagno Mi sto per suicidare Ma basta Cioè Adesso sono ancora vivo Nonostante Ecco 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 Un pesce E c'è che è un ginger Ancora uno Un rosso Un rosso Basta Ogni santi secondo C'è sempre quel drago Potrì da spararmi Da spararmi Ancora Parle di fuoco Parle di fuoco Parle di fuoco Cerito Un rosso Super Ah questa è la stazione se ne fosse qualcosa altro ho sbagliato un po' zona allora forse di là ecco, ovviamente qua sia qua che ovviamente c'è un po' zona c'è un po' zona c'è un po' zona che c'è un po' zona ok ah ok, ho capito facciamo così facciamo questo momento e poi facciamo così sono tornati a un tempo mai perché penso che hai capito cosa dobbiamo fare non ritrasformarci ancora in quella specie di di topo di roccia per poter continuare per fare di nuovo per quanto riguarda il tutto nello che ti c'è ok ok entro là eccoci prima il biondo è tutto giallo ah sì, dobbiamo parlare ok, qua al contrario cioè nel senso che chi ha meno punti vince qua cosa dobbiamo fare che vince chi ha meno punti questa volta questa non è la lega delle mani che mi resta che ha meno punti vince eccoci 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 ho vinto forza semifinale almeno tutti i vincenzi pronta pronta bene ci siamo vinte ancora bene ok vai che ci siamo non è che era mai il campione con il serio no stronzi no non ci siamo non ok è vinto non non no che gioco non 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 certo allora torniamo torniamo da il mondo non 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 adesso cosa fare adesso vabbè andiamo andiamo poi andiamo da con le scape che un 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 bianco un 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 Ah, sono dei piattaformi, di prendere quel gingio. Ah, non è un po' felice. Eccoci, siamo arrivati dove abbiamo fatto preparare le piattaforme, quasi cazzo, sono troppo alte. Supo, Facciosa, sai passa, Sai comunque ironia! isolated Sì, sì. c'era una pagina ok, c'era una pagina di città adesso a scendere facciamo così cosa ha fatto? è caduto poi papapà vabbè adesso devo chiedere perché a spitterina dobbiamo andarle vanno sopra facciamo di vite al cielo ok, prendiamo un po' di vite va? ok, prendiamo un po' di vite ok, prendiamo un po' di vite il quale ti devo andare ah, questo qua è per il treno ma porco zio oh, bravo del cavolo ok, vedo che dice qualcosa schiacciare il compenso schiacciare il compenso è la pagina di sui ciglia però lo facciamo così e poi prendiamo un po' di vite ok, ora tocca a kazooi ecco qua ecco qua lo tocca a mezzo ecco lo tocca a kazooi a prendere il non ci no posso credere tutti e due qua fantastico devo rifarlo tutto ah bellissimo ma che noia siamo anche kazooi però aveva pochissime vite no ma non c'è tempo aspettate mentre qui beh per me devo rifarlo tutto purtroppo Sì, è un culo Ecco Questo ben giù Dai Poi Kasui vai a prendere il Gigi Eccola Vabbè, Kasui senza farti male Ecco, vai giù ma non toccare il petto Perché se no Aspettate, no, facciamo così Ecco, così Ok 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 Qua non so cosa è che ci sia Vabbè Per ora è tutto Grazie per avermi seguito Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ok Ok